Se sei uno scrittore alle prime armi bastano 10 righe per sgamarti. Io sono Andrea Viscusi e su Story Doctor mi occupo di storie e di scrittura. In questo video voglio portare l'attenzione su 5 abitudini di scrittura che si ritrovano spesso nei testi degli autori dilettanti. E quando dico dilettanti, l'ho specificato altre volte, ma lo ripeto, non lo dico in senso dispregiativo, parlo semplicemente appunto di qualcuno che sta iniziando adesso a praticare la scrittura, a tentare di cercare una pubblicazione, quindi magari a mandare i suoi testi a concorsi, a partecipare a selezioni, a contattare editori, agenti, pubblicare su un suo blog, qualunque tipo di approccio che uno voglia tentare per entrare un po' nel mondo della scrittura, dell'editoria e quindi diventare uno scrittore un po' più professionale, ma che appunto si ritrova in queste abitudini di scrittura che sono frequentissime e che, insomma, ai suoi occhi non sono niente di rilevante, ma che invece all'occhio di qualcuno un po' più esperto, che è un po' più nel settore, risaltano subito. È una cosa che ho notato un po' negli ultimi tempi, da quando sulla rivista speculara, di speculative fiction, a cui lavoro, mi arrivano appunto i testi magari di autori che propongono le loro idee e i loro testi, i loro racconti e, siccome appunto quello è, quello delle riviste, magari uno dei primi approcci che un autore tenta e quindi spesso ci arrivano i testi di autori che effettivamente magari sono davvero alle prime esperienze e ho ritrovato molto spesso queste cose. Io, siccome sono nel settore da diversi anni, magari nella mia bolla di, appunto, di altri autori, addetti ai lavori, eccetera, magari queste cose le diamo quasi per scontate, quindi non le ritroviamo tra di noi, ma avendo avuto di recente un po' più di esperienza con autori che invece venivano un po' più dal basso, diciamo, allora mi sono accorto che queste cose esistono ancora, quindi non sono passate di moda, anzi, sono tuttora una costante, e derivano, a mio avviso, un po' dalla formazione che riceviamo a scuola, da come ci insegnano che sia la scrittura, da come ci fanno a studiare su testi che, se va bene, arrivano agli anni 50, del 900 e poi si tralasciano magari gli ultimi 70 anni di narrativa italiana e internazionale, oppure ci danno quell'impostazione giornalistica perché ci sentono a scrivere il saggio breve, no, quel tipo di cose lì, e quindi non ci danno davvero un'idea di quella che è la scrittura narrativa e di quali sono un po' le convenzioni anche della narrativa, quindi magari quando con quel tipo di formazione proviamo a iniziare a scrivere qualcosa ci viene quasi naturale siamo anzi convinti di fare la cosa giusta quando in realtà non è così. Tra l'altro quello di cui sto parlando non sono nemmeno errori perché non sono appunto errori grammaticali, ortografici, e quindi insomma siamo a un livello ancora più basso della cosa e dopo è scontato che se tu stai guardando questo video tu sappia scrivere in italiano altrimenti insomma abbiamo un problema un po' più profondo e probabilmente questo video non ti aiuterà a migliorare la tua scrittura. Però ecco, quelle a cui farò riferimento adesso non sono strettamente errori ma sono delle abitudini appunto riconoscibili che svelano l'inesperienza dell'autore e tra l'altro non hanno neanche strettamente a che fare con la qualità del testo, della storia nel senso magari anche un racconto per esempio che contiene alcuni o tutti anche questi elementi che andrò a illustrare ora può anche essere un buon racconto, una buona storia magari costruito bene, appassionante, con dei buoni personaggi però la sola presenza di queste cose tradisce il fatto che l'autore sia un autore inesperto che può essere a volte uno svantaggio perché come ho detto altre volte a volte quando ci si trova a confrontarsi con può essere appunto un editore, un agente, un giurato di un concorso che deve valutare la nostra opera e magari se lo prendiamo nella giornata in cui è un po' girato di umore allora se si trova davanti un testo in cui leggendo le prime righe cioè senza neanche vedere il contenuto della storia di quello che sta leggendo ma soltanto proprio dalle prime dieci righe trova queste cose che dirò adesso allora capisce no ma sai questo è un autore che ancora non è dentro nel settore io non ho voglia di perdere tempo con questa gente perché oggi ho le palle girate e quindi voglio avere a che fare con gente che conosce già il mestiere e quindi appunto pur non essendo strettamente degli errori e pur non precludendo la qualità della storia magari nel suo complesso in realtà possono a volte diventare uno svantaggio in questo senso qui quindi questo è un po' l'approccio che utilizzo quindi non ha niente a che fare con la qualità della storia di per sé o della scrittura ma rivela il fatto che siamo autori dilettanti e quindi possibilmente è comunque da evitare per avere diciamo una disposizione diversa da parte di chi poi ci andrà a leggere numero 1 le die eufoniche a questa cosa ho già dedicato un video completo però appunto è uno dei primissimi indizi perché la die eufonica scappa sempre nel senso è proprio una cosa che viene fuori naturale e è anche un po' anomala perché non c'è una vera ragione per cui non si dovrebbe usare è un po' una convenzione di scrittura che non ha neanche un vero senso nella facilità di lettura insomma è difficile da capire perché non si dovrebbero usare le die eufoniche però nella narrativa c'è attualmente questa convenzione e quindi trovare un testo che nelle prime dieci righe ha due die eufoniche ed è facile perché un ed ora ti può venire naturale metterlo allora in quel caso veniamo subito sgamati come autori dilettanti poi per approfondire questa cosa vi rimando comunque al video completo che ho fatto sulle die eufoniche per spiegare cosa sono e perché le andiamo a evitare ho tolto la die eufonica anche mentre parlavo numero 2 i dialog tag allora i dialog tag per spiegare velocemente sono quelle frasi della narrazione che spiegano le battute che descrivono le battute del tipo buongiorno carissimo disse Francesco questo disse Francesco è un dialog tag e appunto quella in genere si mette per identificare chi parla all'interno di un dialogo e qui si aprono diciamo due possibili strade da una parte ci sono quelli che mettono continuamente il verbo dire e quindi c'è tutto un botte e risposta di dialogo in cui c'è buongiorno carissimo disse Francesco ciao Francesco disse Maria e così via è tutto un dire 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 solamente declinato poi a seconda dei tempi verbali della narrazione eccetera ma poi c'è anche l'alternativa che forse è anche peggiore perché diventa quasi una parodia sembra in cui siccome l'autore si accorge che sta ripetendo tante volte il verbo dire allora va a cercare tutti quei verbi alternativi tutti quei sinonimi ma che in realtà non significano neanche la stessa cosa e significano cose diverse ma che magari non sono neanche adatte al contesto di quella battuta per cui allora si tirano fuori dei verbi completamente assurdi tipo replicare ribattere ritorcere tutte queste cose qua che sono un eufemismo per non andare a dire dire che però magari è la formula più neutrale e diciamo universalmente valida e che dovrebbero anche trasmettere il senso del tono della battuta ma a volte a volte nel senso non sono neanche appropriati perché appunto magari uno schermo di battute così tipo ciao carissimo disse Francesco ciao Francesco replicò Maria perché replicò non è una replica replicare è un'altra cosa però appunto siccome l'autore si è reso conto che sta ripetendo sempre il stesso verbo allora cerca dei sinonimi magari va proprio su dizionario dei sinonimi dei contrari cerca di dire e trova a replicare dice ah sì ci metto questo anche se in realtà non significa quella cosa in quella battuta lì e poi in secondo luogo in questo caso ci porta anche all'errore di voler spiegare la battuta con il dialog tag ma in realtà noi dovremmo comprendere qual è il tono con cui viene fatta la battuta già dal contesto della battuta stessa dallo scambio del dialogo o dalla scena come si sta svolgendo quindi la soluzione in realtà sarebbe di fare a meno proprio dei dialog tag perché appunto se io dico faccio una cosa del tipo adesso basta strepitò francesco il fatto che francesco strepita io non lo devo capire dal fatto che dico che descrivo il fatto che sta strepitando quindi non serve che io dica che francesco strepita io devo capire dalla scena che ho costruito prima e da come scrivo la battuta da come magari faccio muovere francesco che francesco sta strepitando quindi appunto invece dei dialog tag si dovrebbe costruire meglio la scena usare dei bit che sono diciamo quelle micro azioni che accompagnano anche visivamente le battute di dialogo per rendere anche proprio la l'azione la scena come si sta svolgendo quindi si rientra poi qui praticamente in tutto il discorso dello show don't tell che poi è un discorso molto più ampio che adesso non andiamo ad affrontare e che comunque già si può intuire a partire da queste prime dieci righe comunque ecco per riassumere i dialog tag sono un'altra cosa tipica degli autori dilettanti che se potete dovreste evitare numero 3 aggettivi e avverbi li metto insieme perché la dinamica più o meno è la stessa ovvero che gli autori dilettanti tendono a caricare il testo di aggettivi su aggettivi su aggettivi e di avverbi su avverbi su avverbi questa è una cosa anche qui che deriva un po' da come ci insegnano a scuola la letteratura praticamente appunto per le letture che ci fanno fare per la poesia che ci fanno studiare per anche quei testi appunto giornalistici in cui ci sono tanti avverbi e lì diciamo ha senso ma nella narrativa è diverso bisogna costruire diciamo la vividezza delle scene non caricando le cose di aggettivi perché incatenare tre quattro volte anche cinque aggettivi mi è capitato di trovarli a un sostantivo in realtà pesantisce la lettura e non aggiunge davvero tantissimo cioè se io devo scrivere il cielo e dico il cielo azzurro limpido terzo e risplendente davvero c'è bisogno di dire tutte queste cose sul cielo e davvero sono tutte così necessarie da dover essere agganciate proprio in quel momento a quella frase rispetto al cielo o piuttosto agganciate a dei dettagli che devono essere significativi che mi fanno vedere qualcosa di questo cielo quindi il ragionamento è un po' quello mettere tutti questi aggettivi e appesantire la frase con tutte queste particelle che poi forse non aggiungono davvero niente in genere non è davvero una soluzione ottimale per quanto riguarda gli avverbi invece c'è quella cosa terribile degli avverbi in mente che non vi venga mai in mente di usarli cioè se vi viene da scrivere velocemente continuamente tardivamente cancellateli subito e vi risolvete tantissimi problemi tra l'altro con gli avverbi il discorso simile a quello degli aggettivi è che spesso quando mettiamo degli avverbi è perché non abbiamo usato il giusto avverbo praticamente quindi andiamo a usare un verbo generico e poi lo caratterizziamo con un avverbio ma allora io potrei trovare un verbo che invece era già in partenza quello utile a esemplificare quello che volevo dire e qui vi invito anche a fare un esperimento se voi avete un testo che avete scritto e ci sono diversi avverbi nella maggior parte dei casi se voi vi prendete semplicemente cancellate tutti gli avverbi che ci avete messo dentro scoprirete che il significato sostanzialmente rimane lo stesso ora io mentre sto parlando sto usando tantissimi avverbi anche in mente io poi sostanzialmente è uno di quelli che uso sempre me ne rendo conto però appunto è diverso il parlato dalla narrativa quindi infatti nei dialoghi ci possono stare perché il dialogo non è la la narrazione anche questo è un discorso magari un po' più approfondito che non sempre gli autori soprattutto tutte le prime armi hanno bene sotto controllo però esula un po' dal tema di questo video quindi non è detto che non si possono usare ma nella narrazione gli avverbi in mente toglieteli e gli aggettivi se proprio proprio li volete massimo due uno ci può stare due se sono proprio necessari ed estremamente caratterizzanti più di due mai proprio non ha senso non c'è una circostanza nella vita in cui possa avere senso usare tre aggettivi numero quattro i gerundi e in questo caso mi riferisco a una costruzione delle frasi piuttosto ricorrente negli autori dilettanti che è quella frase tipo in cui c'è una frase con al presente narrativo della storia con agganciato un gerundio del tipo Francesco addentò il panino strappando un morso di carne e qui appunto si sta parlando di due azioni che non sono contemporanee perché io addento il panino e poi strappo il morso di carne ora magari ho fatto un esempio un po' ambiguo però per dire Francesco rispose al telefono chiedendo chi era anche in questo caso non sono azioni contemporanee perché io rispondo al telefono e poi chiedo chi è se dovessi mettere in scena questa cosa che ho scritto col gerundio sarebbe che io rispondo al telefono e contemporaneamente chiedo chi è quindi praticamente faccio chi è mentre rispondo al telefono e quindi appunto in questo caso non ha neanche non è neanche corretto dal punto di vista proprio del significato della frase perché il gerundio indica un'azione che si svolge in contemporanea a un'altra però è una cosa molto ricorrente che si trova davvero spesso e che poi anche questa è un'abitudine a cui siamo tutti portati perché ci sembra probabilmente di riuscire a descrivere più cose nello stesso momento quando noi semplicemente possiamo usare delle congiunzioni e mettere le azioni in sequenza Francesco addentrò il panino e strappò un mosso Francesco rispose al telefono e chiese chi era quindi semplicemente la soluzione è davvero a portata di mano e nemmeno va cioè alleggerisce anche il testo lo rende più scorrevole e fa vedere anche un'azione più viva quindi in questo caso non c'è davvero nessuna ragione per cui dovremmo fare uso dei gerundi e di questa costruzione particolare delle frasi piuttosto che scrivere semplicemente una sequenza di azioni con le congiunzioni nel mezzo e numero 5 per finire e questa è anche quella più divertente i paroloni quanto mi piacciono i paroloni e con questo termine strettamente tecnico io intendo quelle parole che non si usano nel linguaggio comune quindi non solo nel parlato perché ovviamente nel parlare si usa un po' il linguaggio con delle convenzioni diverse rispetto a quello scritto ma anche proprio nel linguaggio corrente nella normale interazioni tra persone nel mondo però per qualche ragione abbiamo questa convinzione e qui appunto di nuovo a mio avviso è un po' la scuola che ci porta a pensare questa cosa che usare i paroloni faccia vedere quanto siamo bravi come scrittori come se stessimo risolvendo il cruciverbo sulla settimana egmistica il bar tezaghi che vuole che noi sappiamo queste parole perché appunto sono quelle parole completamente desuete completamente fuori dal linguaggio comune che però sono il dizionario perché sono in italiano e quindi noi le dobbiamo sapere e dimostrare di saperle proprio la sfida con il lettore come Bartezzaki che ci fa il cruciverbo noi se non sappiamo quella parola noi lo risolviamo noi dobbiamo mettere alla prova il nostro lettore e fargli vedere hai visto sono come Bartezzaki però appunto in realtà questo non trasmette questo senso al lettore anzi un po' lo infastidisce ma non perché magari il lettore non capisce quella parola perché non è detto che siano parole così assurde ma perché diventa proprio una lingua artificiosa cioè si capisce che c'è una volontà dietro di qualcuno che ti sta mostrando che lui conosce quelle parole e questo rompe completamente l'immersione e alla lunga può anche diventare un po' fastidioso perché queste parole risaltano si notano e allora non fanno parte di quel patto con il lettore per cui io lettore credo a quello che mi sta raccontando perché nel momento in cui mi metti il parolone mi metti tanti paroloni allora io capisco che di là c'è una persona che sta scrivendo che la storia che sto leggendo non è davvero una storia che si svolge nel mondo reale ma una storia che mi viene raccontata da uno che già che c'è mi vuol far vedere che lui conosce anche questi paroloni e i paroloni di cui parlo vabbè ve ne accorgete subito ma che ne so quante volte capita di leggere nei racconti magari appunto di questi autori alle prime armi borborismo ora perché siccome in una pochia Pasquali non mi ricordo credo che sia il borborismo lontano del temporale questa cosa qua allora siccome la professoressa di lettere ti ha detto avete visto che uso ricercato della lingua non so se perché anche è un omotopeico poi forse è anche una parola che è stata inventata da Pasquali se è Pasquali non sono sicuro correggetemi se mi sbaglio allora ci viene data l'idea che usare queste parole sia una dimostrazione di grande autorialità siccome noi ci vogliamo sentire grandi autori allora le usiamo ora io faccio l'esempio di borborismo ma ne trovate tantissime di questo tipo anche meno auliche però appunto queste parole che non si usano nel linguaggio comune nel linguaggio corrente anche appunto su nei testi per dire anche di saggistica a parte ovviamente quelli di con un lessico molto specifico tecnico ovviamente quelle sono parole che si usano e se stiamo scrivendo una storia che contiene una terminologia specifica di un settore allora certo che la usiamo perché è contestualizzata in quella cosa ma in generale dare la dimostrazione di conoscere queste parole fuori dal linguaggio comune non ci qualifica assolutamente come autori competenti anzi fa l'effetto contrario e dimostra che ci vogliamo siamo così ansiosi di farci vedere come scrittori veri che usiamo questi trucchetti di mettere le parole da crociverba perché così diamo l'idea di essere davvero bravi quando in realtà insomma l'impressione che diamo è esattamente il contrario eccoci in quindizi rivelatori da cui appunto si scopre che stiamo leggendo il testo di un autore dilettante e magari adesso ti puoi andare a riprendere l'ultima cosa che hai scritto e vedere quanti ne totalizzi su cinque sicuramente ce ne sono altri che però magari non sono così immediati queste sono cose appunto magari singole parole o singole lettere addirittura come la diafonica che quindi è facile ritrovare in pochissime righe e quindi si scoprono tutte e che come dicevo all'inizio non necessariamente significano che il testo nel suo complesso la storia non sia valida però rivelano questa questa amatorialità dell'autore poi appunto ce ne possono essere altri che magari anche un po' più a livello di dinamiche o di tecniche narrative che forse non bastano poche righe ma si rivelano nello spazio magari di qualche pagina e magari poi più avanti faremo un video anche dedicato a quello però questo è proprio l'ABC cioè questa è la base se facciamo questo tipo di errori che si può ritrovare davvero nello spazio di pochissime righe allora siamo subito etichettati come autori dilettanti ovviamente essere dilettante è una fase in cui da qui tutti dobbiamo passare quindi non c'è niente di male ma studiando continuando a fare pratica a interagire a confrontarsi a chiedere feedback a chi è anche più esperto di noi possiamo comunque fare dei passetti avanti e poi un giorno saremo quelli che leggono i testi degli altri e sgamano i paroloni e gli dicono guarda che con questo non si va tanto avanti a questo punto vi ricordo di scrivervi qui a StoryDoctor attivate le notifiche così non vi perderete i prossimi video a proposito di storie e scrittura naturalmente qui nei commenti potete anche aggiungere le vostre esperienze in questo ambito dei primi tentativi di approccio verso appunto editori agenti concorsi e se anche a voi è capitato appunto di trovare cose di questo tipo o al contrario se vi sembra che alcune di questi indizi di cui abbiamo parlato non siano davvero così gravi però ovviamente ci sono le eccezioni ma quando parliamo di uno standard ci riferiamo alla regola generale e poi da quella possono derivare infinite eccezioni quindi insomma è bene focalizzare il discorso io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e ci rivediamo presto qua su StoryDoctor per avermi seguito per avermi seguito